piccoli maranzini ciao 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 ok no green baud che bello sì certo 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 ma se veramente ma per finta grazie a voi grazie ragazzi buon pomeriggio ciao 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 mattia come stai mattia tutto bene e mattia grande grazie ricambio 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 grazie ciao arrivederci ciao ciao è un amico con evidenti problemi ovviamente sto per cagarmi addosso letteralmente non mi girerò mai sì certo scusami grazie ok ti è stato davide ok e gianluca miele anche ma gianluca miele non mi sta simpatico flame non ti piace no gianluca l'ha detto lui eh vado da lei che è davvero carina grazie ma come mai gianluca miele non piace a nessuno cos'è questa storia no ma di qua ah no prima andrà nei locali di là è vero hai bisogno di qualcosa sai che tu hai bisogno sì grazie amore ti sei perso rubino rubino david rubino c'è scritto rubino grande come una casa uh rubino che bello bello rubino ragazzi allora hai giardinato? eh no perché stai facendo con il fan allora c'ho centomila cose vabbè io da seduta posso smascherarmi sì 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 Gianluca che cazzo fai che cazzo fai Gianluca cazzo fai grazie ciao sì adesso siamo pronti per ordinare ecco l'ordini allora io avrei preso il ginseng anch'io lo fate zuccherato? piccolo grande no grande enorme 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 sì è già zuccherato sì sì va bene va bene quindi come grande grande sì tutti due grandi grazie prima bevo però poi cago così mi aiuta a cagare ragazzi perfetto troverai poco spazio ma lo troverai non fa niente non fa niente perfetto grazie sentite oggetto ti ha conosciuto eh certo siamo venuti nel tuo bar siamo venuti quale bar non mi ricordo dove lavoravo? qua sì no no ma non ero qua no no io ero nel altro bar quindi ti ho visto in altri bar e allora ci siamo vestiti noi li ho girati tutti ok allora ci hai visto in qualche altra bar sì allora lui tranquillo 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 non ti preoccupare no ma va non ti preoccupare sei tranquillo niente no niente ma figura tranquillo no 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 tutto a posto tutto a posto uo come hai fatto? mi escicelo poverino mi esci volato tuo i vassoio poverino tutti che premono di nazi e da doussi muore facciamo così esatto va beh dai può capitare dai scalpitare dai può capitare no? infatti può più venereo è un lavoro difficile no, non è facile c'hai le cose in mano ti puoi sempre scappare come Fabio il sushi no, vai tranquillo come hai partito ma l'avevo lato proprio tranquillo se eravamo davanti al MOBA come Omio tu lo sarebbe partito a una risa qui non siamo però si è emozionato e non è per dire del MOBA nel senso che sto facendo l'agitazione su quello che successe davanti al MOBA si è emozionato davanti a te no, ma vai tranquillo è tutto pulito allora ti aiuto facendo così ma è tutto a posto però non c'era bisogno davvero ci mancherà tra un po' ti prendo in bocca ma stai tranquillo grazie e adesso adesso cago anche i bagni no, a me se ti cago in bocca no, sto scherzando sto scherzando no, ti vengo in bocca o no? ma ho fatto la fine ma certo mi spiace solo che si è bagnato il microfono quello sono non si era qua siete bagnati no, è tutto a postissimo no, no, è già passato lui no, no, è tutto a postissimo tutto a posto no, 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 è tutto a postissimo tutto a posto, grazie no, 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 è tutto a postissimo no, 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 è tutto a postissimo tranquillissimi no, 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 è tutto a postissimo non mettete pubblicità regativa sui social no, 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 no assolutamente no non lo farei male avete comunque una pericina perché non l'ho preso in bocca ma guarda che qualsiasi cosa ma poi guarda che qualsiasi cosa fosse successa il lavoro capita eh, certo no, non è gentile sono normale no, no, siamo normali non sono gentile più che altro siamo comprensivi perché è normale che può capitare ma non ce ne sono più, capito? e poi quindi capisci che se qualcuno facesse una gestione negativa sarebbe stupide di cattivo gusto è giusto bisogna essere comprensivi con tutti assolutamente le cose succedono a chiunque comunque avete un aperitivo pagato ma no ma ci mancherebbe no, troppo gentile c'è bisogno non c'è bisogno, vabbè abuseremo del suono no, no no, we cash, non siamo, siamo normali allora allora ora però non so ne c'è nel loro bagno sì, questo Christian è andato di fatto ma sto scherzando no, dobbiamo cagate normale adesso ci scortiamo il vostro wifi wifi si è bagnato qualcosa di... sì, ma non c'è nessun problema vabbè si è bagnato tutto funziona lo stesso sì, sì, sì cioè il microfono non lo so però ma ok sì, ma funzionerà eh no saldiamoli solo dammi la mano eh, tutto è qui, guarda qui cioè, senti qualche roba no, si è rotto è certo perché ha beccato il bicchiere e si è rovesciato su Fabio e poi per terra grazie 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 franzi, scusami una domanda per una centinaia di euro si potrebbero acquistare le tue mutandine reggissimo se non è disponibile vanno bene anche quelle di Fabio mi dissocio proprio da questa domanda mi dissocio da questa domanda nel frattempo ti consiglio di seguirmi su Instagram la franzuno ecco qua grazie troppo gentile grazie potta l'em grazie sciottino della franzo delle 19 giù, 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 giù ti chiedi ancora scusi hai detto basta mica, mica siamo gente che c'è ma per carità no voglio iniziare a cagare allora addio allora raga provo a portarvi ah raga proviamo ad andare a cagare se prendeva Iliad deve prendere anche questo se non va torno giù di nuovo il bagno è sempre sopra vero? grazie vediamo la luce dove si accende? è l'evitro c'è una addirittura sanale ah ok ah l'ho visto grazie grazie perfetto grazie chi se lo ricorda ragazzi piccino ma carino prende abbastanza dai eh vecchi ricordi ragazzi facciamo la cacca che devo caccare non potevo prendere la giacca no aspetta la giacca va sul cesto grazie grazie Mimò cazzo adesso mi servono le mani a posto oh perfetto pulitissimo minchia zio cane pulitissimo buonasera oh mamma mia allorabile davidone sì grazie Mimò no sì è la luce a timer ora dovrebbe essere on sì prende solo in alto in alto ciao Anthony devo spingere ancora un pezzo raga grazie pensavo di farne di più però adesso sono un po' deluso molto deluso si va dall'Ariston arriva in bagno grazie grazie per le mani ragazzi datemi la forza grazie no di nuovo no la cassa è sotto grazie della sub si liberi forte sto provando a liberarmi forte raga sto spingendo ASMR ragazzi ho un pezzettino e devo finalizzare ragazzi la mostra è voluta da terra esatto più 20 di scudo devo finalizzare raga final round eh bisogna accendere ogni volta c'è un timer bisogna mettere un timer un po' più lungo final round fight final round depot wins grazie mille comunque della donation mi dissocio ho finito raga l'ho fatto raga a post ho finito perfettissimo a post mamma mia cioè ho fatto una roba assurda 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 christian no pulisco tutto io sono bravissimo non si vedrà nemmeno no 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 ok io uso sempre lo spazzolino ragazzi ho finito Buon posto Io lascio tutto pulitissimo, non ci credete? Tutto super pulito, raga C'è la carta perché è pulita, ma è pulita Non ci sono segni o sporco Vedete? No segni, no cacca E notamente anche per Twitch non faccio vedere la cacca A posto Si è sentita la donation, vero? Cacca fatta Grazie Grazie